Torniamo in diretta con Eleonora ed Eleonora E voi direte come due Eleonore qui negli studi di Radio Godot a Stazione Letteraria Eh sì, perché una è Eleonora Marcella che è sempre qui con me E che palla E' arrivata? Eccola qui E che palla E l'altra è Eleonora De Liperi Che bello Che bello, lei sì Posso abbassare un po' che sono un tappino? No, no, quello è il massimo Ma è il massimo della cosa Non si può abbassare Eleonora De Liperi presenta anche lei un libro, giusto? Il buio aveva i miei occhi Il buio aveva i miei occhi Un libro molto bello, molto importante Che descrive anche delle esperienze della vita di Eleonora Intanto vieni chiamata perché lei è una scrittrice ricercata Quindi se sentite dei rumori Alla Elena Ferrante Mod Esatto Eleonora, allora tornando a noi Di che cosa parla questo libro? Allora, il mio libro è una biografia Nasce da una mia storia Quindi un mio vissuto Di violenza sulle donne Quindi un argomento abbastanza Insomma all'ordine del giorno ormai Purtroppo E niente, un'esperienza che io ho avuto circa 13 anni fa nel 2004 Con un mio ex compagno Io il problema è che comunque ho preso atto di tutta la situazione alla fine del processo C'è stato comunque un processo Durato circa sei anni Questa relazione è durata circa quattro anni e mezzo Io alla fine non so come Perché ancora oggi mi chiedo dove ho trovato la forza comunque di mollare tutto Comunque di denunciare Dopo circa quattro anni e mezzo E' da lì che è iniziato comunque poi tutta la trafila di problematiche Con inseguimenti, stalking di ogni genere, minacce Che alla fine mi hanno portato a denunciare Però anche nel momento in cui ho denunciato la cosa Non ero ancora consapevole di quello che fondamentalmente mi era accaduto Per cui niente, ho preso atto alla fine insomma del processo Quindi circa nel 2010 E ho iniziato a mettermi anche un po' in discussione Perché si va sempre a pensare di essere Di sentirti sempre tu sbagliata E alla fine dicevo Perché comunque devo sentirmi io sbagliata Se mi rendo conto che comunque sia chi ha sbagliato in quel caso Non sono stata io ma lui E quindi attraverso comunque dei percorsi personali Molto, molto, molto forti che ho fatto E sono arrivata appunto a prendere atto Che comunque sono stata una donna maltrattata E che comunque ho subito violenza fisica e psicologica E continuo a dire che la violenza psicologica E' quella più potente in assoluto Perché subito non ti rendi proprio conto di quello che ti succede Pensi comunque di meritare quello che ti viene fatto Quello che ti viene detto Che ti viene detto comunque pensi di meritarlo Pensi che comunque sia giusto così E invece non è assolutamente vero Nel senso che è giusto iniziare a cautelarsi E' giusto farsi rispettare E la cosa principale è Prima di tutto Dobbiamo essere noi A non permettere agli altri Di mancarci di rispetto di ogni tipo Nel senso che basta anche una parola Una parola detta In maniera Anche Cioè In maniera sbagliata Esatto In maniera sbagliata Che poi può non essere sbagliata per la persona Certo Però per l'altra persona magari sì Io ti volevo chiedere Nella vita che hai descritto adesso Quindi dalle violenze ad oggi Tu hai affrontato due step secondo me Quindi La denuncia e la scrittura del libro Esatto Grandi grandi no? Sì E' stato più difficile denunciare Quindi come hai detto tu Prendere atto e farsi forza O scrivere un libro Perché comunque scrivendo un libro Tu ci inserisci la tua storia Anche se comunque poi i nomi Magari non sono quelli sono quelli Ma comunque poi si capisce che è la tua storia Quindi comunque è una presa di posizione forte Quella che fa E' stato più difficile denunciare o scrivere Il libro Allora sicuramente scrivere il libro Perché denunciare Io l'ho fatto in maniera inconsapevole Dico la verità Nel senso che io sono arrivata a denunciare Perché mi ci sono sentita fondamentalmente costretta E per quanto non avevo la sicurezza di dover denunciare Perché pensi sempre di arrivare a fare Sempre qualcosa di eccessivo Nei confronti della persona Senza renderti conto che in effetti La persona comunque che ti ha causato danni Ha superato comunque l'eccesso Però diciamo che arrivare a scrivere il libro È stato più difficile In quanto dover riprendere in mano pezzo per pezzo Tutto quello che comunque mi era successo Dover ricordare Dover mettere per iscritto Più che ricordare Mettere per iscritto Che è la cosa più difficile Vedersi scritta Vederti scritta Vederti Sentirti rileggere Anche da altre persone Non è stato facile Sto iniziando adesso un po' a A prendere anche atto di tutto questo Ecco perché comunque all'inizio Non è stato semplice Diciamo che Anche questa è stata per me una terapia Nel senso che Quella è importante Il fatto di parlarne Di venire fuori Insomma di trovare anche questo Cioè di trovare il coraggio Anche in questo Per me è stato Cioè importantissimo Perché comunque mi ha aiutato E mi sta aiutando A prendere comunque ancora più sicurezza Di me stessa alla fine Certo Tra l'altro la denuncia sicuramente È stata credo io supportata Da altre persone Immagino no Quindi magari anche lo stesso avvocato Che può accompagnarti Invece magari la stesura del libro È proprio Eleonora Che si mette lì Scrive il libro Penso da solo Quindi è anche una sorta di Di esperimento che si fa Che si fa da soli E quindi questo è molto importante Allora ci ascoltiamo una canzone Poi torniamo in studio Con Eleonora Deliperi Che ci sta parlando del suo libro E della sua esperienza Quindi a tra poco Su Radio Codobo Stazione Letta Eleonora Ciao Ciao Eh vedi questo era l'esperimento Due Eleonore Allora abbiamo con noi in radio Alle 18.09 Eleonora Deliperi Lei ha scritto Il buio aveva i miei occhi È una storia vera Che lei ha vissuto E poi ovviamente La scritta La protagonista è Eleonora Che purtroppo è vittima Di stalking Quindi In realtà Proprio per accogliere Eleonora Oggi ho fatto una ricerca Per quanto riguarda i dati istat Sullo stalking in Italia Ah sì Giusto per provare Un po' di brezza Esatto Quindi come percentuale Abbiamo il 21% Delle donne Ha subito violenze Tra i 16 e i 70 anni Quindi il 21% Quindi violenze In generale Parliamo qui Poi abbiamo Il 78% Delle donne Non si è rivolta Ad alcuna istituzione Una percentuale altissima Il 78% C'è una domanda Perché non ci si rivolge Alle istituzioni Eh Bella domanda Allora Non ci si rivolge Alle istituzioni Prima di tutto Perché c'è la vergogna Si vive la vergogna Prima di tutto Secondo Non sempre Come è successo a me Riconosci Quello che ti sta succedendo Nel senso che Tu Hai la persona Al tuo fianco Che ti tratta Male Quindi verbalmente E fisicamente Però Non vai a pensare Che quello che ti sta facendo Cioè Per te comunque È un atto d'amore Nel senso che Quello che ti viene detto È perché effettivamente Tu lo meriti Quindi se lui Fa un gesto Nei tuoi confronti Eh Violento Sicuramente Nella tua testa È perché tu l'hai meritato Per cui Arrivare a riconoscere Che Non c'è amore In quello Perché fondamentalmente È di questo Che si parla È difficile È difficile Perché È difficile Rendersi conto Che la persona Che hai a fianco Non è Un uomo Ma è un mostro È difficile Rendersi conto Che Al tuo fianco Non c'è una persona Che ti ama Ma c'è una persona Che deve demolire Completamente La tua personalità A 360 gradi Per cui Insomma Mettere Prendere atto Di questo Non è semplice In più Per quanto mi riguarda Io Non ho avuto Non ho avuto Grandi soddisfazioni Per quanto riguarda Insomma La giustizia Nel senso che Io Mi sono Mi hanno portato Da un avvocato Io avevo nascosto Tutto a casa E quando Ho raccontato Tutto E mi hanno portato Subito Da un primo avvocato Ovviamente Che si conosceva E tornando indietro Ed è quello che Comunque io suggerisco Di andare a Cercare Comunque Avvocati E comunque Persone competenti In materia Che sappiano Come gestire La situazione Prima di tutto Giuridica E soprattutto Anche Che sappiano Come Sostenerti Per sostegno Non parlo Di prenderti A braccetto Ma Il fatto Anche Di avere Comunque Un supporto Psicologico Anche da parte Di un Di un avvocato Ecco Che comunque Tant'è vero Che a proposito Gli avvocati Per quanto riguarda Le percentuali delle persone Che si rivolgono All'istituzione Abbiamo un 15% Delle donne Che si rivolge All'istituzione Solo il 4,5% Si rivolge Ad un avvocato Sì L'altra cosa Che io dico Che bisognerebbe Fare rette Rette Potente Anche Nei Dei carabinieri Polizia Comunque Le forze Dell'ordine In genere Perché Fare proprio Degli sportelli Di ascolto Perché capita Che vadano Delle donne A chiedere Comunque Un minimo Di aiuto E lì non trovano Comunque persone Preparate Perché Sentirti dire Da un carabiniere Piuttosto che Da un poliziotto Vedere che Comunque Non sa gestire La situazione Sentirti dire Eh ma Signora Lei se ne deve andare Da casa Piuttosto che Eh signora Adesso vedrà Che passa tutto Se lei adesso torna a casa Fa pace con suo marito E tutto 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 si sistema Quindi sminuivano Un po' la situazione Per cui Cioè non è successo a me Ma Io ho lavorato Poi E ho fatto Ho aperto a Sassari Un centro antiviolenza Per cui Ho avuto modo Di 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 vedere un po' Certi Certi ambienti Eh Eh Donne Comunque Che hanno subito violenza Hanno vissuto anche questo Per cui Ci scrivono su Facebook Che eh Uno dei luoghi più diffusi Per questo problema È internet Oltre che il luogo Dove si lavora Secondo te è vero questo Ci sono Eh Riscontri Secondo te Su internet E anche sul luogo di lavoro Ma Purtroppo Mh Non Forse a metà Nel senso che Anche con tutto quello Che si sta sentendo Ormai E diciamo che Ci si approfitta Di ogni minima cosa Ormai il web Sta diventando Veramente Eh Una Un campo Di Dove comunque Si viene utilizzato Per umiliare le persone Eh Basta vedere appunto Cosa sta succedendo Con il bullismo Piuttosto che Le donne che comunque Vengono Eh Violentate Eh Invece di Aiutare comunque Le persone in difficoltà Vengono filmate Cioè Vengono filmate Le situazioni Questo veramente Mi Mi spaventa molto Perché dico Caspita Cioè Dove ci trovo Cioè In che mondo Siamo Cioè In che mondo Viviamo Cioè Vedere comunque Delle persone In difficoltà E non avere comunque Aiuto Dalle persone Mh Anche da amici Perché comunque Sia Eh Il bullismo Nasce anche Dalla 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 cerchia Di amicizia No C'è il più forte O meglio Quello che Presumibilmente Appare più forte E gli altri Non hanno il coraggio Di ribellarsi E così Succede anche Con la violenza Sulle donne No Soprattutto con La violenza Di gruppo Eh Per cui Oppure Nel momento In cui Un uomo Viene lasciato Eh Che subito Va A umiliare La propria La propria Ex Mettendo comunque Dei filmati Su internet Per renderla Proprio Ridicolizzarla E comunque Umiliarla A 360 gradi E abbiamo visto Anche storie Andate E finite male Esatto Di quello di cui Stai parlando te Quindi Esatto Secondo te Questo libro Può essere D'aiuto Alle donne Agli uomini O a tutte e due Ma io Credo a tutti e due Io Quello che vorrei Adesso Da settembre Spero Di riuscire a portare avanti Un progetto Che ho In mente Che è quello Di poter fare Comunque Della Poter andare Comunque Nelle scuole Cercare Cercare un po' Di parlare Della violenza Già Comunque Dalle scuole medie In modo Innanzitutto Da mettere Al corrente Comunque I ragazzini E poi Anche per poter Far uscire fuori Dei ragazzini Che magari Subiscono Violenza In casa Da parte Del genitore E magari Non sanno A chi rivolgersi Non sanno Con chi parlarne A proposito Dei centri Antiviolenza Sui dati Istat Ci dicono Che solo L'1,5% C'è pochissimo Delle donne Si rivolgono Ad un centro Antiviolenza Io ad esempio Non mi sono mai rivolta A un centro Antiviolenza Mai Primo Perché Vabbè Io vengo Da Sassari E quando è successo A me Nel 2004 Non c'era Una Non se ne parlava Così tanto Non c'era Così tanta Campagna pubblicitaria Come c'è adesso Per cui In più Non riconoscendo In me stessa Quello che comunque Mi era successo Non potevo andare A cercare Comunque Un centro Antiviolenza Per potersi aiutare Non l'ho fatto Neanche dopo La verità Perché comunque Ho trovato Grazie a Dio Tramite i percorsi Che ho affrontato Comunque persone Che mi hanno Veramente sostenuto Aiutato A buttare fuori Comunque A prendere atto Di quello che Comunque mi era successo Con grande difficoltà Devo dire Però Mi hanno aiutato Molto Per cui io credo Che in questi casi La cosa importante È chiedere Comunque aiuto A chiunque Che possa essere Uno psicologo Anche lì Competente Piuttosto che Un centro antiviolenza La cosa brutta È che molte volte Hai a fianco persone Come possono essere Amicizie O parenti Che purtroppo Non riconoscono Quello che ti sta succedendo E quindi anche lì Viene sminuito Quello che ti accade Quello che ti accade Perché Io ricordo Ad esempio Frasi che venivano Dette a me Della serie Da noi si usa Quando si viene Picchiati Tra virgolette E ci sei uscito Di sussa No Questa frase Comunque è una frase Che ti rimane Perché dici Cavolo Stai provando A parlarne Ad aprirti A cercare Già di chiedere aiuto E ti rendi conto Che le persone Che al tuo fianco Non percepiscono Quello che tu stai vivendo In più Per te È anche difficile Arrivare effettivamente Ad entrare E a far capire Che cosa Che cosa ti sta accadendo Cosa consigli A tutte quelle persone Che stanno vivendo O hanno vissuto Probabilmente Una situazione Simile alla tua Ma io Innanzitutto Denunciare Denunciare Andare a chiedere aiuto Immediatamente E Trovare la forza Prima di tutto Dentro se stesse Dentro se stesse Perché Non è vero Quando si dice Che è stata sfiga È stata sfortuna Di essere incappate In uomini così Ma Scegliamo noi Comunque la persona A conquistare Prima di tutto Questa è una cosa Importantissima Quindi non è che L'uomo arriva così Dallo già al domani È una persona Che abbiamo scelto È una persona Che ci ha scelto E Allo stesso tempo Dobbiamo prendere atto Del fatto che Non dobbiamo Permettere Alla persona E a nessuno Di 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 Mancarci Non solo di rispetto Ma di Di intaccare la nostra Personalità In nessun modo Per cui È anche solo Uno schiaffo Comunque un insulto Apparentemente Non Non pesante Però è subdolo Perché anche lì Magari può non essere Pesante l'insulto Però fondamentalmente Lo è comunque Che ruolo ha avuto Il teatro Terapia Nella tua vita O in qualche processo In maniera particolare Ma allora Mi ha aiutato tantissimo Perché io Ero una persona Molto chiusa Nel senso che Non amavo Mettermi in discussione Davanti a Tante persone A dovermi Raccontare In mezzo a Tante persone Per cui è stato Per me Molto 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 Bello E molto efficace In quanto Innanzitutto Ho trovato Veramente Un ambiente Molto Protetto E già quello È importantissimo Il fatto Di essere Accompagnata Nel mio percorso Quindi non è stata Una cosa Che è avvenuta Dall'oggi al domani Ma Ci sono stati I miei tempi Le persone Che mi hanno Sostenuto Comunque hanno Aspettato I miei tempi In tutto Per quanto Cercano Ovviamente Di Spronarti Ma lo fanno Cercando Di far Prendere atto Di chi sei tu Cioè Chi sei tu Come persona Che ruolo Hai tu Con te stessa Prima di tutto Prima che con gli altri Questa è una cosa Importantissima Nel senso che Purtroppo La società di oggi Tende a dare valore Al fatto di E tutti Aspettiamo sempre Sai Le lodi Da parte Delle persone Il fatto Di dover Di doverci Sempre sentire Gratificati Da parte Degli altri E quando Questo non arriva Molte volte Su cosa succede Che ti trovi A pensare Di Di non essere Magari Perfetta No E invece La cosa sbagliata Quello di aspettarsi Sempre dagli altri Cioè che arrivino Che le lodi Arrivino dagli altri E mai da se stessi A proposito però Di se stessi Tu ti sei fatta Forza E hai raccontato La tua storia Attraverso un libro Che quello del buio Aveva i miei occhi Qual è il messaggio Che vuoi lanciare A tutte quelle persone Che si ritroveranno Questo meraviglioso libro Tra le mani Dico meraviglioso Perché poi la copertina È veramente splendida La copertina Allora innanzitutto Ci tengo a dirlo È stata realizzata Da una mia carissima amica Che mi ha aiutato A un po' A elaborare Io avevo già iniziato A scrivere E le avevo fatto leggere Le prime parti Che avevo scritto E mi chiese Lei dice Ma hai già scelto Un titolo E io gli ho detto Guarda la verità Ancora no Cioè ci stavo pensando Però non Non avevo ancora deciso Non avevo proprio idea Più che non avevo deciso E lei prese Una foto Che mi aveva fatto Tempo prima Durante una giornata Che avevamo passato insieme Ad altri amici Perché è molto brava Anche nel fare foto E mi disse Io ci vedo molto Una foto Una cosa del genere Nel tuo libro Perché i tuoi occhi parlano Ci vedrei qualcosa Attinenti ai tuoi occhi Al che lì abbiamo iniziato A vedere un pochino E così è nato anche il titolo Grazie anche a lei Devo prenderne atto Che il titolo è nato Anche grazie a lei E la copertina L'ha realizzata Lei a mano Disegnandola proprio Con acquarello E l'unica cosa Che ho fatto È riportare Nella copertina Tale quale Anche i colori Che lei Ha messo Nel Nel disegno Che aveva fatto Per Per la copertina E leonora Ci scrivono su facebook Ti fanno intanto I complimenti Teresa ti scrive Coraggio Continua a lottare brava E Fabrizio ti dice Avanti così E leonora Giuseppe ti scrive Scrive su facebook Che magari Anche il coraggio Il carattere Che hai tirato fuori Può essere legato Al tuo essere sarda È così secondo te Cioè I sardi Sono Sono testardi Hanno sempre Questa forza dentro Sono determinati Quello sì Anche se io La verità La mia determinazione Non l'ho mai Non l'ho mai vista Su di me Forse l'ho vista La sto iniziando A vedere adesso Ecco Il fatto di Continuare comunque A portare avanti Questa campagna Il fatto di Comunque continuare A parlarne Il fatto di Comunque di uscire Sempre più fuori Perché comunque È quello che voglio Nel senso che Sono stata zitta Per troppo tempo Per tanto tempo E adesso Ho proprio bisogno Di sento proprio Questa necessità Quello di doverne Di doverne parlare E quindi spero Che anche il mio progetto Non solo nelle scuole Ma che poi Possa insomma Ampliarsi Anche in altri campi Possa Possa Insomma Aiutarmi Ad aiutare Anche altre persone Quindi questo E tanto altro ancora Nel buio Aveva i miei occhi Il libro di Eleonora De Liperi Una storia meravigliosa Per alcuni tratti Purtroppo Anche fin troppo Drammatica Ma soprattutto Dà il messaggio forte Ed è questo che Dobbiamo lanciare Attraverso questo libro Potete trovare Il buio Aveva i miei occhi Su You Can Print O sui maggiori store online Oppure semplicemente Eleonora De Liperi Ha la sua pagina Facebook Quindi contattarla Per fare tutte le domande Che volete Noi purtroppo Siamo in chiusura Dobbiamo ringraziare Eleonora Per aver condiviso Con noi Questi meravigliosi 25 minuti intensi Più che altro Di storia Dobbiamo sensibilizzare Dobbiamo parlarne Ma ovviamente Continuare a lottare Tutti insieme Esatto Livia Infine ti scrive Tanta ammirazione Quindi Comunque Anche un messaggio forte Che dai ad altre donne Che comunque Anche se non hanno Ricevuto violenze Possono anche trasformare Questa tua Determinazione In altro In tutti gli ambiti Assolutamente Della vita Eleonora Ti salutiamo Grazie Grazie a voi Ci sentiamo presto Grazie Grazie Eleonora Ciao Torniamo tra poco In diretta Su